Con una nota sulla pagina Facebook della Nissa, il presidente Sergio Iacona scrive che a seguito delle dichiarazioni rilasciate al signor Massimo Ferraro, riteniamo doveroso fare chiarezza sulle reali motivazioni delle dimissioni dell'ormai ex direttore sportivo. Va detto che lo stesso ha preferito dare notizia delle dimissioni tramite testata giornalistica piuttosto che comunicarle alla società. Sin dall'inizio la società ha messo lo stesso DS nelle migliori condizioni per svolgere il suo mandato. Tuttavia, alla carenza dei risultati, si è aggiunta la volontà del DS di continuare sulla sua strada ben diversa da quella della società. Ferraro ha scelto liberamente di continuare a non confrontarsi apertamente con la società e di non condividere in alcun modo le scelte con le persone indicate dalla stessa per collaborarlo al solo fine di iniziare un nuovo percorso di miglioramento dei risultati e di una migliore gestione economica, sin cui certamente fuori dalle indicazioni iniziali. Riteniamo altresì doveroso evidenziare che nessun giocatore è stato sin cui allontanato per scelta o decisione della società. Ieri pomeriggio, esclusivamente per loro scelta, tre giocatori hanno deciso di non proseguire il loro cammino con la Nissa. Altri due, invece, su richiesta dello staff tecnico, sono stati messi fuori rosa. La società Nissa rispetta la sua scelta personale e lo ringrazia comunque per il lavoro svolto e per l'impegno profuso mai messo in discussione. La società biancoscudata augura al signor Ferraro tutto il meglio possibile per il proseguimento della sua carriera. La società andrà avanti con un'attenda programmazione che privilegia innanzitutto la coesione tra tutte le componenti societarie e una crescita graduale ed equilibrata. Avevamo contattato il DS Ferraro che si è riservato di non rilasciare nessuna intervista in merito.